Io confesso, da sempre ho voluto fare il pittore, ma non un pittore qualsiasi. Volevo avere la mia visione, essere un vero artista. Il mio nome è Jacopo Robusti, ma tutti mi chiamano il Tintoretto. Ero giovane allora, ma avevo una grande fiducia in me stesso. Ho talento, pensavo. Nessuno mi potrà fermare. Ammiravo Tiziano, ma anche Leonardo, Raffaello, Michelangelo. Erano tra i più straordinari pittori al mondo e mi avevano preceduto di pochi anni. Cos'altro potevo fare? Come potevo realizzare qualcosa di davvero nuovo?